Non bisogna eliminare i carboidrati, anche se si soffre di problemi di tiroide. Questo perché i carboidrati sono fondamentali per il tuo corpo e anche con problemi di tiroide tu puoi mangiare i carboidrati. Anche la persona diabetica può mangiare i carboidrati. È ovvio che le porzioni sono personalizzate, ok? Ma tutti possono e devono mangiare i carboidrati. Assolutamente. Non vanno mai tolti, anche perché non è sostenibile togliere e eliminare i carboidrati. Cioè tu puoi farlo per un breve lasso di tempo. Dopodiché non ce la fai più a non assumere i carboidrati. E quindi ecco che poi fame nervosa, abbuffate, voglia perenne di dolci, voglia perenne di zuccheri, voglia perenne di carboidrati, voglia perenne di cibi grassi. È tutta una conseguenza data dalle restrizioni alimentari, ok? Quindi vanno assunti i carboidrati. Quindi vanno assunti i carboidrati, voglia perenne di carboidrati, voglia perenne di carboidrati. Quindi vanno assunti i carboidrati.